Cominciamo dall'Ariete. Giornata questa che dovreste dedicare decisamente alla calma. Basterà un nulla per rendervi scontrosi e nervosi con chiunque. Toro, trascorrerete una giornata davvero speciale. In ambito professionale avrete buone possibilità di dimostrare quanto valete. Nel privato vi sentirete amati come desiderate se siete in coppia e ammirati e corteggiati se siete single. Gemelli, in questa giornata per quanto riguarda la sfera affettiva siate più tolleranti con il partner e cercate di coltivare pensieri e sentimenti positivi che generino ottimismo e benessere. Cancro, giornata che avrà ottimi risultati sul piano professionale specialmente se desiderate migliorare la vostra posizione. Tranquillo l'amore, anche troppo forse, voi che amate invece un po' più di movimento. Leone, con un buon senso pratico, organizzazione e impegno potrete sbrigare con successo le incommense quotidiane e portare a termine gli impegni assunti in precedenza. Vergine, giornata ricca di eventi positivi. Saprete dimostrare al partner una comprensione a 360 gradi che vi sospingerà verso un'intesa di coppia felice e appagante. Bilancia, per vivere serenamente. Accontentatevi di quello che la vita vi offre, senza inseguire obiettivi al momento non raggiungibili. Fate di tutto per assecondare i desideri delle persone alle quali volete bene. Scorpione, la giornata vi regala ottimi input. L'intraprendenza e lo spirito di iniziativa che caratterizzano questo periodo vi metteranno le ali ai piedi e vi faranno volare molto in alto. Sagittario, troppe questioni da sbrigare vi potranno mettere addosso un po' di tensione e di ansia. Cercate di calmarvi. Se avete un'attività autonoma sarete al centro dell'attenzione per una questione delicata e di grande responsabilità. Capricorno, vi attende una giornata viva e movimentata, ricca di novità. Sarete così allegri e seducenti che certo susciterete l'interesse di molti e qualcuno di voi potrebbe essere anche tentato dalla voglia di evasione. Acquario, è probabile che vecchie questioni burocratiche vengano finalmente risolte. Qualcuno riceverà addirittura rimborsi di quattrini anticipati. In ambito privato cercate di riannodare i rapporti. Pesci, il giorno si profila poco favorevole alle vostre iniziative. Vi obbligherà a sospendere o a rimandare i progetti in cantiere. In amore, non mettete alla prova la pazienza del partner. Siate più comprensivi se per caso è lui a iniziare una discussione inutile.